Grave incidente a Santo Nuovo di Quarrata dove in una falegnameria due persone al lavoro sono rimaste ferite mentre stavano scaricando un camion. Il fatto è avvenuto poco dopo le 15 in via Pontassio con dinamica sulla quale sono in corso le indagini. A quanto appreso i due stavano scaricando da un tir un carico di pesanti fascine di legno con un muletto. Dal muletto è caduto del materiale che ha investito un 47enne di pistoia schiacciandolo e procurandogli diverse fratture. L'altro ferito ma in modo non grave è l'autista del camion, un quarantenne bosniaco. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale di Quarrata con il 118 che ha inviato un'ambulanza della Croce Rossa di Quarrata, una della misericordia di Casal Guidi e un'automerica da Agliana. Viste le condizioni del 47enne si è quindi richiesto l'intervento di Pegaso III che ha trasportato il ferito in codice rosso al CTO di Firenze. L'altro ferito è stato invece trasportato per accertamenti all'ospedale San Jacopo di Pistoia. Sul luogo dell'incidente è operato personale del servizio prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'ASL Toscana Centro per i rilievi necessari a chiarire le ragioni di quanto avvenuto. Grazie. Grazie.